Gli inglesi che preferirono la morte pure di rimanere cattolici di Roberto De Mattei Mi sono trovato in Inghilterra il 29 giugno e mi ha molto colpito l'attaccamento che ancora oggi i cattolici inglesi hanno verso il Papa e verso la Chiesa di Roma. Questo attaccamento ha le sue radici nel doloroso scisma che si consumò nel XVI secolo strappando l'Inghilterra alla vera fede. L'autore di questo scisma fu il re Enrico VIII che in preda a una diabolica passione per una damigella di corte, Anna Bolena, divorziò dalla moglie Caterina d'Aragona e contro il divieto papale la sposò nel 1533. Papa Clemente VII non riconobbe il matrimonio e l'anno successivo Enrico VIII fece votare al Parlamento l'atto di supremazia con cui il regno si separava dalla religione cattolica romana e costituiva una chiesa nazionale detta poi anglicana di cui il re era il capo supremo. Il popolo inglese era cattolico ma furono pochi gli ecclesiastici, i dignitari e gli aristocratici che osarono mettersi contro il sovrano sfidando la prigione e la morte che li aspettava. I primi fra questi furono un eminente laico Tommaso Moro, cancelliere del regno e un vescovo Giovanni Fischer, creato cardinale dal papa prima del supplizio. Si aprì un periodo di contrastate lotte politiche e religiose in cui il papa, San Pio V, scomunicò la regina Elisabetta I, figlia illegittima di Enrico VIII e il re di Spagna Filippo II tentò di conquistare il regno d'Inghilterra ma la provvidenza aveva disposto altrimenti. Per oltre due secoli la fedeltà a Roma fu testimoniata dall'epopea di una legione di santi, pronti ad affrontare la peggiore delle morti in difesa della fede cattolica. Il condannato, condotto su un carretto al luogo dell'esecuzione, veniva squartato e orrendamente mutilato, ancora vivo e cosciente. Il carnefice, dopo aver castrato il suppliziato, gli praticava un taglio nel ventre, estraendone gli intestini che venivano bruciati in un bracere davanti ai suoi occhi. Poi il carnefice gli tagliava la testa e procedeva allo squartamento del corpo. Con un'ascia lo divideva in quattro parti, prima tagliandolo verticalmente, poi orizzontalmente, quindi in altre due metà. I quarti del suo corpo venivano appesi in diversi angoli della città. Santo Liviero Plunkett fu l'ultimo martire cattolico inglese squartato a Londra nel 1681, in seguito al complotto papista. Una fittizia cospirazione gesuita per assassinare il re Carlo II di Inghilterra, ma in realtà inventata dal fanatico anglicano Titus Oates per accreditarsi di fronte al sovrano. Degli innumerevoli martiri cattolici inglesi, Margaret Paul e quaranta compagni furono beatificati da Leone XIII nel 1886 e altri nove nel 1895. Thomas Hereford e altri 106 martiri vennero beatificati da Pio XI il 15 dicembre 1929. Il 25 ottobre 1970 vennero canonizzati da Paolo VI, 40 martiri, undici dei quali appartenevano al gruppo dei beati del 1886 e 29 a quelli del 1929. Il 22 novembre 1987, infine, Georg Heidock e 84 cattolici di Inghilterra, Scozia e Irlanda, sventrati a Tyburn, sono stati beatificati da Giovanni Paolo II. A Tyburn, proprio accanto al luogo in cui avvenivano le esecuzioni, che si affaccia su Hyde Park, è stato costruito un piccolo convento, dove si prega e si chiede l'intercessione di questi martiri. Vi aleggia lo stesso profumo sopranaturale che si respira in tante cappelle, chiese, santuari e monasteri cattolici del Regno Unito, da Londra fino alle brume della Scozia e alle coste della Cornovaglia. La festa dei Santi Pietro e Paolo, che il 29 giugno in Italia è di precetto solo per la Diocesi di Roma, in Inghilterra è festa obbligatoria sul suolo nazionale e quel giorno si recita una bella preghiera che esprime tutto l'amore di questo popolo per la Cattedra di Pietro. Questa è la preghiera rivolta a San Pietro. O Beato Principe degli Apostoli, Vicario di Cristo, Pastore di tutto il gregge, roccia su cui è costruita la Chiesa, noi ringraziamo il Principe dei Pastori che nell'epoca della fede ha legato questa terra così dolcemente e fortemente a voi e a questa sede di Roma da cui venne la sua conversione. Noi l'odiamo e benediciamo nostro Signore per quegli intrepidi confessori che hanno dato la vita per il vostro onore e il vostro primato, nell'ora in cui lo scisma e l'eresia divisero la nostra terra. Noi desideriamo ravvivare lo zelo, la devozione e l'amore dei tempi passati. Per quanto è il nostro potere, noi consacriamo il nostro Paese con fervore e amore a voi. Vi offriamo il nostro omaggio, rinnoviamo la nostra fedeltà al Pontefice, vostro successore, che ora occupa la sede apostolica. Con la vostra potente intercessione confermate e rafforzate la fede dei pastori e del popolo che vi invoca. Salvateci dall'apostasia, dalla disunione, dall'indifferenza religiosa e dalle perdite, a cui l'ignoranza e la tentazione espongono il nostro piccolo gregge. O umilissimo e sincerissimo Penitente, otteneteci lacrime di vero pentimento per i nostri peccati e un armore ardente al nostro Divin Maestro. O clavicero del Regno dei Cieli, apriteci le porte del cielo affinché possiamo entrare nel gaudio del Re della Gloria. Ricordatevi del Regno di Inghilterra, che è cresciuto in grazia e unità sotto la benedetta influenza prostolica per circa mille anni. Pregate Gesù affinché tutti possano ottenere la luce e ritornare al vostro gregge, che è l'unico gregge di Cristo. Non è una preghiera inglese, è una preghiera universale, come ogni preghiera cattolica. Oggi il fumo di Satana, che secondo le parole di Paolo VI, è penetrato all'interno del Tempio di Dio, avvolge la stessa cattedra di Pietro. Ma proprio per questo bisogna aumentare il nostro amore per il Papa e per il papato, per la Roma immortale, di martiri e di santi, che inviò apostoli e missionari in ogni angolo della Terra, per diffondere la verità del Vangelo. Oggi c'è bisogno di nuovi apostoli, che dall'Inghilterra alla Russia convertono il mondo alla Santa Chiesa Romana, l'unica che è veramente una, cattolica e apostolica, e che ha nel successore del Beato Pietro, vicario di Cristo, il suo fondamento. La preghiera è necessaria. Nota di basta bugie Non ci stancheremo mai di consigliare il film Un uomo per tutte le stagioni, che parla della vicenda di Tommaso Moro, cancelliere del Regno, che finirà martire per non avere approvato la condotta del re Enrico VIII. Tutti gli approfondimenti con le scene del film e i trailer si possono vedere nel sito filmgarantiti.it Grazie. Grazie a tutti.